A quasi due anni dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, i circa 400 russi che vivono a Kirkenes, cittadina norvegese di 3500 abitanti a 10 km dal confine con la Russia, sono divisi tra chi è ancora a favore dell'aggressione in Ucraina e chi ne è contrario. Con la guerra a cambiare non è stata solo la quotidianità dei cittadini di Kirkenes, ma anche la sua economia a causa delle sanzioni dell'Unione Europea nei confronti di Mosca. A Kirkenes, dove è presente un consolato russo e una statua dedicata ai soldati dell'armata rossa, l'azienda più importante della città, un cantiere navale che riparava pescherecci russi, ha visto perdere i suoi clienti.